e ciao a tutti ragazzi siamo in questo nuovissimo video e oggi è un video di storia sul palazzo di napoli e quindi ora buona visione ok ora siamo nel vivo del video dove c'è questo palazzo come vedete già all'interno è bellissimo da questa parte molto antico e ci sono un sacco di segni che per esempio anche dell'impero romano però non è dell'impero romano questo palazzo comunque diciamo che questo palazzo faceva parte del regno delle due sicilie governato dai borboni che diciamo prima che l'italia era unificata erano divisa l'italia era molto divisa semmai c'erano un sacco di stati più o meno e poi c'è pure un simbolo dell'unificazione d'italia quando ovviamente nel 1861 fu unificata tutta l'italia e proprio per questo penso che c'è questo simbolo dell'italia comunque posso dire che ci sono tutti questi quadri sono bellissimi a arte troppo belli allora questo palazzo si trova a napoli e si trova a piazza più le biscito una piazza di napoli comunque vi voglio dire una cosa allora all'inizio questo palazzo era utilizzato dai viceri spagnoli perché i borboni erano spagnoli poi diciamo che si creò il regno delle due sicilie e quindi ci fu veramente il re che ovviamente era sempre più o meno un parente probabilmente di un re spagnolo però era un re e non era più un vicere spagnolo che viveva lì e ai tempi il questo palazzo era il potere del meridione e prima il meridione era molto potente è ricco poi però nell'unione d'italia ovviamente le ricchezze furono la maggior parte delle ricchezze fu portata nel nord purtroppo non ci possiamo fare nulla però prima il meridione non ha potenza in questo palazzo oltre che sono vissuti i borboni sono vissuti gli aragona e angioini i savoia e anche i francesi e ora e ora siamo nella sala più bella la sala del trono ci sono un sacco di quadri il quadro uno dei quadri più grandi è quello di ferdinando di borbone che poi cambiò cognome si chiamerò che si chiamò ferdinando primo delle due sicilie il trono è bellissimo devo dire la verità questa parte era la parte più bella e ovviamente non ce l'ho potuta fare tra 3 2 1 non ce la potevo fare ecco qua allora ora vi dico un po di storia all'inizio i regni erano divisi il regno di sicilia e regno di napoli poi però arrivarono i spagnoli e conquistarono il meridione e diciamo all'inizio in questo palazzo reale andavano in vicere spagnoli però poi fu creato il regno delle due sicilie che fu conquistato dai francesi come vi ho detto prima fu conquistato molte volte e poi alla fine all'unificazione d'italia il meridione perse un po del potere molto infatti infatti ora diciamo che il sud è un po più in giù del nord però comunque diciamo le ricchezze del sud sono più o meno i turisti perché vengono a visitarlo e quindi diciamo solo così campa il sud ecco qua qua c'è lo studio di gioacchino murrat che era il cugino di napoleone buonaparte che conquistò il regno delle due sicilie e fece cioè fece diventare suo cugino il re delle due sicilie per far governare questo regno se no non poteva essere governato da nessun francese e ora io che dico è tutto bello comunque i vasi tutto questo castello ormai dico castello ma è un palazzo reale è tutto bello il pavimento tutto il tetto bello e queste sono alcune statue realmente non so se queste statue sono dei re ma successivamente vedremo delle statue appunto dei re che ci sono stati in questo palazzo questa è una fontana con una statua questa è la statua di ruggero normanno penso uno dei re che ha vissuto questo è il federico secondo di svevia questo è carlo d'angio questo è alfonso d'aragon avevo detto già prima che c'erano gli aragone infatti eccolo qua questo è carlo quinto questo è carlo terzo questo è gioacchino murrat che ha anche la sua stanza e questo è il re cui unificò l'italia siamo arrivati alla fine del video e quindi ciao